Tra i protagonisti di giornata ma protagonista anche la scorsa stagione c'è il portierone Vincenzo Anastasio, detto lupo dagli amici. Vincenzo come è stata per te questa partita? Essere chiamato in causa dall'oggi al domani quasi e poi risultare anche decisivo con un intervento nel finale preziosissimo? Una cosa importante, io mi alleno tutti i giorni comunque se la domenica dovessi giocare quindi mi fa piacere che mi so fatto trovare pronto perché così è un punto importante su un campo difficile perché qui molte squadre lasceranno i punti Quindi anche tu, come già lo sapevamo, fai parte pienamente di questo gruppo ed è poi questa la forza di questa squadra cioè davvero tutti fanno parte di un'unica famiglia? Il mio pensiero è che per vincere la cosa fondamentale è proprio il gruppo noi siamo una famiglia più che un gruppo di amici Siamo fratelli e ci vogliamo bene tutti indistintamente, chi gioca, chi non gioca, chi va in tribuna ci diamo forza ogni domenica tutti quanti Puoi dedicare il pareggio ma soprattutto la tua prestazione a qualcuno? Beh questa prestazione la voglio dedicare a mio padre in questo momento sta attraversando un momento molto difficile lui che è stato sempre a fianco a me, 20 anni di calcio che ho fatto e in questo momento mi sta mancando anche la sua presenza Grazie Grazie